Buongiorno a tutti dalla FLCCGL Editori. In questo breve video andremo a vedere come si recupera il codice personale, codice importantissimo in quanto è quello che ci servirà ogni volta che cariceremo un allegato o quando dovremo annullare o inviare la domanda di trasferimento. Abbiamo fatto accesso alla procedura e siamo nella schermata principale. Qua a sinistra abbiamo funzioni di servizio e dobbiamo andare a cliccare su recupero codice personale. Inseriamo il nostro codice fiscale, clicchiamo su conferma e ci viene posta la domanda segreta che io mi auguro voi non abbiate modificato e abbiate lasciato nel cognome danubile di vostra madre. Una volta inserito la risposta alla domanda segreta clicchiamo su conferma e la procedura ci avverte che il codice personale è stato inviato per posta elettronica sulla mail che abbiamo utilizzato per la registrazione a istanze online. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata dal FLCCGL di Torino. Grazie a tutti.